Buongiorno ragazzi, allora questa lezione riguarda la peste che scoppiò a Milano alla fine del 1629 che vi imperversò per buona parte dell'anno successivo, almeno fino a tutta l'estate. Ora, poi vi darò le slide, però nel caso qualcuno di voi fosse assente anche a questa lezione, che per me è particolarmente importante, potrà appunto rivedersi questo video. Cercherò di procedere un po' rapidamente, tanto poi avrete comunque le slide di appoggio. Allora, intanto Manzoni quando decide di scrivere questo 31esimo e 32esimo capitolo della peste di Milano non può disporre già di un'opera storica recente su questi fatti. Esistono soltanto documenti dell'epoca che lui deve andarsi a studiare facendo proprio opera di storico. La fonte principale è quella della storia della peste del 1630 di Giuseppe Ripamonti, però lui utilizzerà anche la relazione, il ragguaglio di Alessandro Tadino, che era un funzionario del Tribunale della Sanità, e anche altre opere, ad esempio la biografia, la vita di Federico Borromeo, che era cardinale a Milano in quell'epoca, dalla quale attinge alcune delle iniziative prese appunto dalla diocesi di Milano in aiuto alla popolazione. E poi utilizza le ordinanze, cioè le grida o gride emalate dal governo milanese. Qui vediamo il frontespizio di alcuni di questi testi, il ragguaglio dell'origine, giornali successi della gran peste, appunto l'opera di Alessandro Tadino, e poi il testo latino, la storia ancora scritta in latino, del Ripamonti. Qui sono esempi delle grida che venivano emanate dal governo, delle ordinanze dell'epoca, anche se in realtà queste illustrazioni non si riferiscono alla peste di Milano. La peste arriva in Italia a seguito delle truppe mercenarie dei Lanzichenecchi, che avevano percorso il territorio, intanto dobbiamo ricordarci che siamo in una delle fasi della guerra dei trent'anni, che era iniziata nel 1618. A seguito del passaggio dei Lanzichenecchi, che avevano saccheggiato le case, a volte malmenato le persone, violentato le donne, insomma avuto contatti di vario tipo con la popolazione, cominciano le prime morti sospette. Era già accaduto diversi decenni prima che scoppiasse la peste in quei luoghi, i più anziani se lo ricordavano ancora, ma la maggior parte degli abitanti non aveva più memoria di questo fatto. Tuttavia il protofisico Lodovico Septala, che è ormai quasi ottantenne, ricorda evidentemente quella prima epidemia e quindi è preoccupato. Riferisce già al 20 di ottobre che nelle terre del territorio di Lecco, ai confini del Bergamasco, sono scoppiati molto probabilmente i contagi. Però non viene deciso nulla, non si adottano provvedimenti di alcun genere a Milano, arrivano poi altre segnalazioni anche da Lecco e Bellano. A questo punto il tribunale, dice Manzoni, si risolvette, cioè si decise. E tutto ciò che fece fu mandare un commissario, insieme ad un medico raccolto a Como, che andò a visitare quei luoghi. Si lasciarono convincere da un barbiero, cioè da un barbiere. All'epoca i barbieri facevano piccoli interventi chirurgici, medicazioni, avevano qualche nozione di anatomia e di medicina. Ebbene, questi due ispettori si convinsero, grazie a questo barbiere, che non era peste, ma erano febbri dovute alle paludi, quindi probabilmente casi di malaria, diremmo oggi, oppure erano effetto degli strapazzi che la popolazione aveva subito dagli alamanni. Il tribunale di sanità si accontenta di questa relazione. Tuttavia, le notizie del contagio si moltiplicano. E quando vengono mandati altri due ispettori, due delegati, e uno è proprio il tadino, quello che scrisse la relazione di cui abbiamo già parlato, ormai questi delegati trovano i paesi che si sono chiusi in una sorta di volontaria quarantena. Molte persone sono scappate nelle campagne, hanno già abbandonato questi grossi borghi, i morti aumentano. Quindi informano il tribunale di sanità che intorno a Milano è scoppiata un'epidemia di peste. Il tribunale decide di stilare dei provvedimenti da dare al governo con dei consigli di pronto intervento, tuttavia poi non è così sollecito, perché soltanto il 14 novembre i delegati riferiscono al governatore. Quindi c'è un ritardo di due settimane. Il governatore di Milano risponde che in quel momento la priorità non è la peste, ma è la guerra, che non ci si può fermare perché c'è una guerra, insomma, si è in guerra con la Francia e quindi non vengono presi i provvedimenti. Il governatore di Milano in questo momento è un genovese, si chiama Ambrogio Spinola, che ha sostituito Don Gonzalo Fernandez de Cordoba da poco. Addirittura il governatore di Milano decide di festeggiare pubblicamente, e quindi con grande assembramento noi diremmo, la nascita del primo genito maschio del re di Spagna Filippo IV. Come se si fosse in tempi normali, non ci fosse il rischio di contagio. All'epoca è vero che comunque le informazioni viaggiavano con più difficoltà di adesso, però comunque le informazioni c'erano, anche se non tutti le possedevano, tra il volgo i governanti senz'altro le avevano. Ecco, questa è insomma l'ordinanza che promuove i festeggiamenti. Manzoni però si stupisce anche dell'atteggiamento del popolo e dice, leggiamolo in parafrasi, anche se poi qui avrete il testo direttamente, dice, ciò che suscita ancora più stupore è il comportamento della popolazione, di quella voglio dire che, non ancora raggiunta dal contagio, aveva seri motivi per temerlo. All'arrivo di quelle notizie da paesi che erano così gravemente colpiti, paesi che formavano intorno alla città di Milano quasi un semicerchio che in alcuni punti non distava più di 18-20 miglia, tutti penserebbero che qui a Milano si creasse una preoccupazione generale, il desiderio di precauzioni di qualunque tipo, almeno una inutile inquietudine, invece no. sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola sul pericolo, chi sostenesse che c'era la peste, veniva accolto con incredulità e scherno, con disprezzo e ira. Lo stesso scetticismo, la stessa cecità e fissazione prevalevano nel Consiglio regionale in ogni ministro. Quindi la gente non ci crede che ci sia davvero la peste, non ci vuole credere. Scusatemi, si è interrotta la presentazione. Tuttavia il Cardinale Federico Borromeo manda una lettera pastorale ai parroci perché invitino i loro fedeli, in caso di malattia, ad autodenunciarsi, cioè a dichiararlo alle autorità, e a isolarsi, a consegnare addirittura le robe infette e sospette, cioè i panni, i vestiti, i materassi, le coperte che potevano essere venute a contatto con le persone contagiate. Quindi mentre il Cardinale Federico si attiva, i provvedimenti delle istituzioni tardano. Il Tribunale della Sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente. Le bullette, cioè i provvedimenti per limitare la circolazione della gente, isolare la città, eccetera, e quindi bloccare il contagio a Milano, arrivarono troppo tardi. Soltanto il 23 di novembre, dicevamo, fu il 14, il Tribunale si riunisce, il 23 del mese, quindi di novembre, stila questi provvedimenti che vengono resi pubblici soltanto il 29 di novembre e la peste ormai è già entrata a Milano. Quando Manzoni scrive questi avvenimenti, ci informa anche che gli storici dell'epoca erano andati a cercare quello che noi definiremmo oggi il paziente zero, chi era il primo che era stato contagiato e ci segnalano che si trattava di un soldato italiano che era al servizio della Spagna, quindi aveva marciato insieme ai Lanzichenecchi e poi a Milano era andato a stare da dei suoi parenti. Questo giovane si ammala a casa dei parenti, il Tribunale di Sanità mette tutta la sua famiglia in quarantena e il contagio viene fermato, viene fermato in quel momento, in quel quartiere che si trova appunto vicino a Borgo di Porta Orientale. Il problema è che in realtà prima di portare il contagio nella casa dei parenti, questo soldato aveva lasciato fuori quello che viene definito da Manzoni un piccolo seme, un semino, vestiti, oggetti che aveva lasciato in giro nella città, venduti, ceduti, bottino probabilmente che era appartenuto a questo soldato e questo contagio si diffonde. Manzoni ci dice che per l'imprecisione dei decreti per la trascuratezza nel farli rispettare o l'abilità nell'eluderli la peste pian piano prende piede, serpeggia lentamente alla fine di questo 1629 e ancora nei primi mesi dell'inizio del 1630 non appare chiaramente, però poi a marzo in primavera ecco che si manifesta decisamente. Anche qui non so se cogliete certe coincidenze con la nostra situazione. All'inizio i casi sono sporagi, dici, la gente non vuole credere che sia peste perché sono appunto ancora casi rari che appaiono quasi isolati e quindi la gente si illude appare fiduciosa che non sia peste qui noi diremmo oggi si diffondono anche fake news persino dei medici che avrebbero dovuto dare informazioni corrette minimizzano dicono che non è vero che peste avevano sempre pronti nomi di malattie comuni per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare per qualunque sintomo e deridevano appunto gli auguri sinistri cioè quelli che consideravano degli uccelli di malaugurio che parlavano di peste la gente inoltre ha paura di dichiarare i casi di peste perché il tribunale della sanità arriva porta via tutti gli arredi le cose che sono state a contatto con il morto e le brucia e poi chiude in casa in quarantena tutti i componenti della famiglia le persone che sono state a contatto con il malato ecco che quindi gli ammalati non vengono denunciati si corrompono i necrofori e anche i loro sovrintendenti perfino gli ispettori del tribunale a volte vengono corrotti per rilasciare falsi attestati per dire che quelle persone non sono morte di peste e la gente che non vuole credere che esiste la pestilenza se la prende con con i medici che cercano di far applicare provvedimenti più severi dice addirittura il tadino che erano persuasi che questi provvedimenti fossero vessazioni senza motivo e senza costrutto cioè imposizioni assurde senza motivo senza utilità e quindi l'odio cade proprio sui medici che invece denunciano chiaramente come sta la situazione che mettono in guardia il tadino e il senatore settala che è il figlio del protofisico addirittura li aggrediscono per la strada tirano sassi li insultano questi poveri uomini in Notamanzoni mentre si affaticavano per fermare un orribile flagello incontravano ostacoli dove cercavano aiuto ed erano addirittura bersaglio degli insulti venivano chiamati nemici della patria come se lo facessero apposta per qualche motivo incomprensibile e anche i medici i semplici medici che erano convinti dell'esistenza della peste venivano insultati si diceva addirittura che la peste era un complotto cioè far credere al pubblico che ci fosse la peste era un complotto dei medici per arricchirsi grazie alla paura generale ecco qui vediamo il ritratto di Ludovico Settala Manzoni ci dice che fu molto criticato all'epoca per aver dalla gente ignorante per aver detto che bisognava fare attenzione alla peste aver lanciato l'allarme mentre invece era stato molto lodato non moltissimi anni prima se non ricordo male nel 1617 quando partecipò a un processo che si concluse con la condanna al rogo di una poveretta accusata di essere una strega Manzoni ogni tanto ha queste note amare per farci capire quanto i giudizi della gente siano sciocchi quando sono dettati dall'ignoranza e dalla superstizione ci dice che Ludovico Settala un giorno stava andando in Portantina a visitare dei malati e la gente cominciò a circondarlo addirittura a gridare che lui era il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse la peste lui che metteva spavento alla città con quel suo cipiglio con la sua barbaccia tutto per dar da lavorare da guadagnare ai medici addirittura i Portantini temendo un linciaggio si rifugiarono di corsa in una casa lì vicina per fortuna abitavano degli amici che lo salvarono ecco altre disinformazioni circolano proprio da parte di chi invece avrebbe dovuto essere un esperto affidabile cioè medici che continuano a diffondere diceria anche questo è insomma una caratteristica quella delle fake news che circolano che riscontriamo anche adesso sul finire del mese di marzo la peste si diffonde sempre di più le morti diventano frequenti i sintomi ormai si conoscono spasimi palpitazioni svenimenti cioè l'etargo nel senso di noi diremmo gicoma delirio lividi e bomboni cioè il rigonfiamento delle ghiandole linfatiche le morti spesso sono rapide o addirittura improvvise perché la peste aveva anche poteva anche essere di tipo polmonare quindi avere un decorso rapidissimo inizialmente asintomatico poi rapidissimo quei medici che prima dice manzoni avevano negato che ci fosse la peste adesso per non ammettere che la peste c'è perché è evidente parlano di febbri pestilenziali cioè cominciano in questo aggettivo a far entrare il concetto tuttavia manzoni dice che si trattava di una truffa una truffa linguistica e che faceva ancora danni perché l'espressione era ingannevole e riusciva a nascondere la cosa più importante che il male si attaccava per mezzo del contagio quindi non era portato dal clima o da altri motivi ma si diffondeva proprio attraverso il contatto tra le persone qui vediamo appunto una rappresentazione del lazzeretto che fu diciamo il luogo in cui erano costretti a ricoverarsi gli ammalati di peste un grande edificio con un grande cortile al centro che poi fu abbattuto ormai credo all'inizio del novecento rimane soltanto più la chiesetta centrale sappiamo poi nei promessi sposi che erano talmente tanti ricoverati che all'interno del cortile furono allestite tende capannucce insomma non bastavano gli spazi nel vero e proprio edificio gestire i malati che sempre più si accumulano nel lazzeretto diventa difficile perché gli inservienti sono corrotti e quindi a volte lasciano scappare qualcuno bisognerebbe che gli uomini e le donne fossero separati però anche qua è difficile mantenere questa separazione è difficile garantire i servizi essenziali la gente dorme sulla paglia questa paglia è sempre più sporca infetta non viene cambiata mancano la disciplina i magistrati cittadini non sanno veramente dove sbattere la testa e chiedono a un certo punto l'aiuto dei padri Cappuccini Cappuccini sono un ordine monastico che era nato dopo il concilio di Trento che seguiva la regola diciamo degli ordini mendicanti quindi votati ai poveri all'assistenza e i Cappuccini aderiscono alla richiesta i Cappuccini prendono in mano questa difficile situazione e hanno come sovrintendente generale questo giovane padre felice il quale in pochissimo tempo riesce a risolvere il problema questo qui non ho messo tutti i passaggi del romanzo però ad esempio procurerà di far scavare delle fosse comuni abbastanza grandi da poter ospitare i cadaveri che sempre più si accumulano organizza i servizi di non solo di confessori diciamo spirituali come i confessori ma anche soprattutto quello di infermieri cuochi lavandai tutto ciò che serve arrivano da ogni parte Cappuccini che si prestano volontariamente a questo servizio bisogna consolare punire minacciare dice mantenere l'ordine padre felice prende anche lui la peste riesce a guarire si rimette al lavoro con i suoi confratelli molti dei quali ci lasciarono la vita ecco questa è una illustrazione di queste fosse comuni nelle quali venivano sepolti i cadaveri Manzoni si sofferma a riflettere su questi uomini che accettarono di svolgere una funzione suppletiva del potere civile in un momento difficilissimo ci dice che il potere politico in quei momenti si dimostrò molto debole e che per fortuna si trovò qualcuno che accettò di essere chiamato a sostituirlo e dice che è un esempio nobile della forza e dell'abilità che l'amore per il prossimo può dare in qualunque epoca e in qualunque circostanza vedere questi uomini sopportare un tale carico così coraggiosamente fu una bella cosa che lo avessero accettato per l'unico motivo che non c'era nessuno che lo volesse fare con il solo scopo di essere utili senza nessuna speranza in questo mondo che morire in un modo più ammirato che invidiato e fu una bella cosa anche chiederglielo solo perché era difficile e pericoloso e si supponeva che essi ed essi soli dovevano avere la forza e il sangue freddo che erano così necessari oggi al posto dei cappuccini noi abbiamo il personale medico infermieristico che ha risposto a questo appello che è veramente un esempio di eroismo e di abnegazione infatti Manzoni dice l'opera e il cuore di quei frati meritano di essere ricordati con tenerezza con quella specie di gratitudine che è dovuta indiscutibilmente per i grandi servigi resi dagli uomini agli uomini e ancora più dovuta a quelli che non la cercano come ricompensa cioè non solo non si aspettavano nessuna ricompensa materiale ma non era neanche una diciamo un orgoglio spirituale che li muoveva e il tadino ci dice se questi padri ivino si trovavano al sicuro tutta la città anichilita si trovava cioè se non fosse stato per questi frati la città sarebbe andata e rovina completamente Ripamonti dice sono state circa 50.000 le persone ricoverate nel lazzeretto durante i sette mesi in cui padre felice se ne occupò qui vediamo il lazzeretto che esisteva ancora all'inizio credo del secolo sì penso che questa sia una foto dell'inizio dell'ottocento vedete che era un edificio grandissimo ecco perché poi vedremo Renzo che vi si aggirano e non riesce a trovare la nostra Lucia immaginatelo tutto pieno di tende all'interno di questo grande cortile intanto la peste qui Manzoni si era dopo questa digressione nella digressione a parlare dell'organizzazione di Cappuccini torna a esaminare il comportamento sociale della plebe del popolo e anche diciamo il modo che aveva di cogliere e affrontare psicologicamente la pestilenza anche quelli che prima la negavano adesso devono ammettere che la peste esiste però ancora inarcano le ciglia in un segno così di sufficienza che non vuole arrendersi fino all'ultimo si diffonde la convenzione che c'è la peste anche perché la peste sta cominciando a toccare non più solo i poveri ma anche i nobili e quindi non è più soltanto alla gente a cui non si dà fiducia la gente più piccola del popolo a essere colpita anche l'aristocrazia questa è un'illustrazione più o meno esornativa che fa vedere che intere famiglie erano colpite quando un testardo ci dice Manzoni su che questo lo dice con parole un po' più ottocentesche però quando un testardo si deve convincere per forza di una cosa che non voleva fosse vera si vendica quasi in modo tale da far rimpiangere la sua vecchia convinzione chi aveva negato che ci fosse la peste ora l'ammette però invece di arrendersi all'idea che è una malattia diffusa dal contagio comincia a pensare che le vere cause siano altre e quindi ancora una volta si diffondono delle false convenzioni e c'è qualcuno che dice che la peste si è diffusa perché c'è qualcuno che la diffonde ad arte attraverso arti benefiche operazioni diaboliche incantesimi quindi adoratori del diavolo che fabbricano pozioni che diffondono il contagio ed ecco che si diffondono queste dicerie e si trovano anche quelle che per la gente più semplice ignorante sono le prove intanto si comincia sospettando guarda caso degli stranieri ancora una volta stranieri perché si è in guerra perché si è contro i francesi e già tempo prima l'anno prima un dispaccio del re di spagna avvertiva che alcuni francesi accusati di beneficio cioè di commettere abbelenamenti erano fuggiti da madrid il re diceva al governatore di milano fate attenzione se per caso vi arrivano in città ecco questo vecchio dispaccio viene diciamo rispolverato e manzoni a un certo punto ci dice più avanti che alcuni francesi che stavano come turisti guardando il duomo e a un certo punto toccarono le pietre del duomo per vedere di che materiale fossero furono aggrediti dalla gente che pensava che si trattasse di untori l'idea che qualcuno possa avvelenare la città e spargere il contagio si diffonde in duomo il 17 maggio qualcuno comincia a dire che è stato unto un tramezzo di legno che separava gli uomini dalle donne allora si portano fuori sulla piazza tutte le panche una gran quantità di panche viene chiamato l'ufficiale della sanità che controlla non trova niente di particolare fa lavare il pavimento però questo mucchio di panche davanti al duomo spaventa la gente e a questo di questo spavento approfitta probabilmente qualche burlone qualcuno di quelli che pensano di essere spiritosi e che in realtà sono quasi o sono delinquenti il mattino dopo in ogni angolo della città si trovano le mura e i muri le mura delle case e i muretti sparsi di una sostanza di una sporcizia gialla e biancastra Manzoni dice forse era uno scherzo forse c'era qualcuno che ostile al governo della città voleva spargere il panico fatto sta che poi questa cosa si ripete ancora non è l'ultima volta che accade gli esperti indagano prendono dei campioni della sostanza provano a inocularla ai cani non è non è tossic cioè non trasmette la peste secondo loro però insomma lo spavento resta soprattutto si sospetta degli stranieri che si vedevano chiaramente come tali perché indossavano abiti diversi vengono fatti vengono fermati dalla gente dice Manzoni vengono portati in questura noi diremmo si fanno indagini però all'epoca le menti erano ancora capaci di dubitare di esaminare di intendere e quindi alla fine questi presunti untori almeno all'inizio vengono lasciati andare è una diceria del popolo ma almeno le autorità non sembrano darle credito dunque nel corso del capitolo 31 Manzoni ci ha raccontato come la consapevolezza del contagio della sua pericolosità abbia fatto fatica ad affermarsi all'inizio gli stessi medici gli stessi ufficiali anzi del tribunale di sanità non avevano preso seriamente la cosa nonostante fossero già arrivate notizie di contagio nei paesi vicini a Milano la prima ispezione aveva fallito si era lasciata convincere che si trattava soltanto di mali stagionali legati all'aria della palude oppure al passaggio dei lanzichenecchi poi quando si erano resi conto che si trattava davvero di peste i casi ormai si erano moltiplicati nei paesi intorno a Milano nonostante questo il tribunale di sanità aveva tardato a suggerire al governo di Milano i giusti provvedimenti quando vennero presi i primi provvedimenti non furono fatti rispettare con la dovuta energia ed efficacia furono elusi ed aggirati da molti la gente non si convinceva che si trattava di peste e non capiva il senso dei divieti e delle limitazioni a cui era sottoposta circolano fake news ci dice Manzoni circola la diceria che sono i medici che spargono la voce che c'è la peste perché ci vogliono lucrare sopra addirittura quelli che più lanciano l'allarme vengono odiati maggiormente presi di mira sassate Ludovico Settala rischia il linciaggio non solo la plebe ignorante crede e sparge queste dicerie ma addirittura alcuni medici che trovano nomi di altre malattie quando si imbattono in un caso di peste e questo ha effetti molto gravi la gente non crede che ci sia davvero un contagio e quando poi si impone l'evidenza a quel punto la credulità popolare che non può più negare la peste la attribuisce a delle cause estranee e non al contagio diretto quindi ai contatti sociali e si sparge la diceria degli untori tuttavia Manzoni ci dice per molto tempo ci fu qualcuno che non credette che ci fu la peste e questa incredulità tenace si aggrappa a delle false convinzioni no sparge a ulteriori fake news noi diremmo qualcuno diceva persino dei medici che non poteva essere vera peste se non sarebbero morti tutti ecco Manzoni dice gli ultimi argomenti di un'opinione battuta dall'evidenza sono sempre curiosi a sapersi però è una considerazione molto amara e pessimista per convincere anche gli ultimi testardi sostenitori del fatto che non si trattava di peste il Tribunale di Sanità organizza uno spettacolo efficace però nello stesso tempo pericoloso fa sfilare per la città un carro sul quale si trovano i cadaveri di un'intera famiglia che è morta di peste e la gente per vedere questi corpi che portano indiscutibilmente i segni del contagio tuttavia si accalca e anche questo servì a propagare l'epidemia bene abbiamo concluso questa rapida rassegna sul capitolo trentunesimo dei promessi sposi di Manzoni e abbiamo visto come presenti una notevole attualità questo testo come ci parli di dinamiche che sono ancora in corso e in evidenza nell'epidemia che anche in questo momento stiamo vivendo la gente fatica ad accettare l'idea spiacevole del contagio lo attribuisce agli stranieri si fa una propria idea di come si diffonda e del perché senza ascoltare le autorità sanitarie che sono gli esperti ecco questi sono elementi che riscontriamo anche oggi la gente è arrabbiata Manzoni ci racconterà nel capitolo seguente come il malessere poi cerchi sempre degli obiettivi da colpire e arrivi anche a colpire gli innocenti per il momento in questa prima fase che abbiamo esaminato Manzoni ci dice che ancora almeno alcuni riuscivano a mantenere la calma e a ragionare però non sarà sempre così purtroppo e vedremo come la situazione poi degeneri nello stesso tempo Manzoni ci parla anche della straordinaria abnegazione del coraggio di chi mettendo a rischio la propria vita ogni giorno affronta il contagio per il bene pubblico all'epoca sono i frati cappuccini che cominciano a gestire il lazzaretto riuscendo a ristabilirvi un ordine a fornire un servizio fondamentale oggi sono invece i sanitari le persone che che lavorano negli ospedali in forze dell'ordine quindi anche allora nell'epidemia viene fuori il meglio e anche il peggio dall'altra lato come abbiamo visto della gente quindi gli spunti per riflettere sono veramente molti con questo vi saluto ragazzi ci vediamo presto sui banchi di scuola per continuare la nostra lettura di Promessi Sposi ciao